Olaf e la vigilia di Natale È la sera della vigilia di Natale. Nel castello di Arendelle, addobbato a festa, tutto tace. Ma come mai ci sono delle calze appese al camino? Forse erano bagnate e qualcuno le ha stese lì ad asciugare? Elsa dorme beata nel suo soffice letto, il viso rischierato dalle luci del nord che brillano nella notte. Anna russa dolcemente e io conto le pecorelle, mentre aspetto che il sonno venga a farmi visita. D'un tratto un forte scampanellio risuona nella notte. Salto giù dal letto e corro a vedere di cosa si tratta. Appena spalanco la finestra, folate gelide e fiocchi di neve irrompono nella stanza. Brrrr, che freddo! La luna piena splende alta in cielo, illuminando il paesaggio coperto da un candido velo bianco. Usando un ghiacciolo come cannocchiale, scruto in lontananza. E cosa vedo? Una slitta trainata da otto piccoli sven che sorvola il fiordo. Un momento, c'è qualcuno a bordo. Sarà forse Kristoff? La slitta si dirige velocemente verso il castello. Via via che si avvicina, sento l'uomo alla guida incitare le renne. Forza Saetta! Su ballerina! Avanti schianto e guizzo! Vai cometa! Andiamo cupido! Forza tuono e lampo! Volate verso la torre oltre le mura! Avanti tutta! Sembra divertente! Ma chi è quel tipo? Non Kristoff! E poi, come fa Sven a volare? Sento i campanellini risuonare di nuovo, seguiti da uno scalpiccio di zoccoli sul tetto. Alle mie spalle giunge il rumore di un tonfo. Mi volto e vedo due piedoni sbucare dal camino. L'uomo a cui appartengono sembra grande e grosso. Indossa stivali neri e pantaloni rossi. Ma dov'è il resto del corpo? Dov'è la sua testa? Finalmente lo sconosciuto esce dal camino ridendo. Ha un faccione simpatico e una buffa barba bianca. Profuma di palle di neve e di biscotti di Natale. No, questo non è certo il mio amico Kristoff. L'uomo poggia a terra un enorme sacco pieno di doni. C'è stata una svendita all'emporio querciola vagabonda? L'uomo e barbuto mette dei pacchetti sotto l'albero addobbato. Quindi si ferma a sgranocchiare di gusto i dolcetti che Anna ed io abbiamo preparato la sera prima. Lo sconosciuto riempie le calze di regali. Sono per Anna e Sven, per Elsa e Kristoff, per tutti i miei cari amici insomma. Decido di presentarmi. Mi chiamo Olaf e amo i caldi abbracci, gli dico tirandogli piano la casacca. Lui mi guarda e scoppia in una fragorosa risata. Non riesco a trattenermi e comincio a ridere anch'io. Allora quell'uomo gentile mi abbraccia forte e forte. Che dono meraviglioso! Quindi si affretta a risalire per il camino. Un secondo ed è già sparito. Corro di nuovo alla finestra per salutarlo. E mentre si allontana in volo grida festoso. Buon Natale e buonanotte a tutti! Fine Fine